Isola dei Famosi 2023, Alvin sarà l'inviato di Larry gli altri nomi del cast e le ultime notizie. La diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 tra poco più di un mese. Quando terminato il grande fratello VIP, Canale 5 è pronto ad accogliere un nuovo reality per rimpinguare l'intrattenimento della prima serata. Stando a quanto anticipato da TV Blog, sembra che dopo gli opinionisti e anche qualche nome già confermato del cast. Ci sia la certezza anche di chi sarà l'inviato di quest'anno. Si tratterebbe ancora una volta di Alvin, arrivato alla sua quinta edizione. Tra i papabili nuovi inviati, era stato fatto il nome di Paolo Ciavarro. Il volto di Forum sarebbe dovuto partire per l'Hondura secondo alcune indiscrezioni. Ma stando a quanto riporta TV Blog, pare che a ricoprire il ruolo sarà nuovamente Alvin. Ormai beniamino della trasmissione è amatissimo dal pubblico. Le voci di un possibile litigio tra lo speaker e conduttore con Ilari Blasi. Quindi, sarebbero da cestinare, d'altronde il rapporto d'amicizia tra i due ormai ventennale è sempre stato al centro di batti vecchi di questo genere che, però, il più delle volte, non hanno trovato terreno fertile per essere alimentati. In ogni caso, Alvin, se non fosse stato scelto nuovamente come inviato, sarebbe potuto diventare opinionista dello show. Ma alla fine si è optato per la coppia formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Pronti a commentare con sagaccia tutto ciò che accadrà sull'isola. Per quanto riguarda il cast, invece, TV Blog conferma alcuni nomi in anteprima come quello di Cristina Scuccia. Ovvero l'ex suor Cristina, la coppia di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. E ancora Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Nois, Gianmarco Onestini, Elena Prestese e Fiore Argento. A questi, poi, la testata giunge i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu. Insieme a quelli del modello brasiliano Christopher Leoni che partecipò come concorrente alla 16 edizione di Ballando con le stelle. E ancora l'ex Miss Italia 2021 Claudia Motta, a cui si aggiungono il modello Gian Maria Sainato e il conduttore Marco Predolin. S-a luvit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracteri. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai spus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.